I tuoi clienti acquistano da te, poi non tornano più in negozio? Prodotto, servizio e professionalità non sono più sufficienti per fidelizzarli? Fai una scelta di business intelligente e innovativa. Fai finalmente la differenza. Un tuo programma di fidelizzazione ti aiuta a mantenere i clienti e ad acquistarne di nuovi. Come? Non con i classici bollini o timbri, ma utilizzando lo strumento più adatto alla tua attività, il tuo computer oppure il tuo smartphone o tablet. Il cliente potrà scegliere di avere la tua Fidelity Card fisica o virtuale. In più, il software CRM ti permette di gestire i clienti, personalizzare le promozioni e raggiungerli in ogni istante con SMS, email e notifiche. I tuoi clienti sono soddisfatti perché ricevono sconti, benefici, premi e ti segnalano ai loro amici. Tu sei soddisfatto perché il tuo negozio non è mai stato così pieno. Richiedi una demo. Grazie. 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 Grazie.